L'isolamento internazionale e le sanzioni decise da Unione Europea e Stati Uniti potrebbero piegare l'economia russa, fino al default tecnico, come classificato dall'agenzia di rating Standard & Poor's. Il prodotto interno lordo di Mosca è dato in calo di almeno l'11%, e in generale, dice la governatrice della Banca Centrale intervenendo alla Duma, la federazione deve affrontare nel secondo trimestre e nell'inizio del terzo cambiamenti strutturali. Se in un primo momento, spiega Elvira Nabiullina, le sanzioni hanno colpito la finanza, ora avranno un impatto più forte sull'economia reale. L'eventuale crack del sistema russo avrebbe effetti collaterali anche per l'Europa, aveva detto solo poche ore prima il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza ed ex presidente Dmitri Medvedev. Il default della Russia, secondo il fedelissimo di Putin, potrebbe comportare quello dell'Europa, provocando una iperinflazione. A tale minaccia risponde la presidente della Commissione, secondo la quale il default della Russia è una questione di tempo e in Europa si sta lavorando proprio in queste ore al sesto pacchetto di sanzioni comunitarie contro Mosca. L'unica certezza, ammette Ursula von der Leyen, è che la guerra in Ucraina potrebbe durare a lungo e in tal caso avrà ripercussioni pesanti sulle economie di molti paesi. L'Italia, per esempio, che è fortemente dipendente dall'estero per la fornitura di materie prime. E l'ufficio parlamentare di bilancio ad averlo pronosticato con dati precisi, in una recente audizione sul DEF. Con il protrarsi del conflitto di un trimestre potremmo perdere un ulteriore punto e mezzo percentuale di pille nei prossimi due anni e avere una inflazione ulteriore di almeno due punti e mezzo.